Musica Bene ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della domenica Oggi ragazzi siamo qui su Jetpack Joyride, quel gioco, come cacchio ho detto? Jetpack Joyride Ragazzi il gioco che ha fatto l'infanzia di molti di noi Quel gioco che sul nostro smartphone ci ha accompagnato per quelle lunghe ore scolastiche, noiose Quando il prof di italiano spiegava e noi eravamo lì annoiati che non sapevamo cosa fare Tirevamo fuori il nostro smartphone e il jetpack ci salvava la vita Comunque ragazzi iniziamo subito a parlare di questo gioco per chi non lo conoscesse, spero in pochi di voi Questo gioco ha degli obiettivi che mano a mano che andiamo avanti vengono sbloccati Dobbiamo raccogliere delle monete e vabbè nell'arco del gioco vi spiegherò perché è strano spiegarlo così Quindi non si capisce Con spazio io salto, ok Se tipo io adesso vado su il pausa vedete che ci sono le missioni attuali Noi cercheremo di farne il più possibile Raccogli due oggetti gettoni, due gettoni in una partita Sono i gettoni che ci permettono a fine partita di usare la macchinetta con gli slot Raggiungi 500 metri senza raccogliere monete Raccogli 5 veicoli, due ancora Cosa vuol dire? Che io ho già fatti un pochino perché effettivamente ho fatto due partite prima I veicoli sono i bonus che si prendono Quei bonus che adesso non so come spiegarli Non so come spiegarlo, sto gioco assurdo Comunque proviamo a fare la prima sfida di non raccogliere monete per 500 metri Non credo di averlo raccolto Comunque questo è tipo uno di quelli che ci fa andare veloci Un bolide Vediamo, non prendiamo monete, non prendiamo monete Non prendiamo monete Non salto qua Infatti prima che c'erano monete Oh, vedi raggiungi 500 metri senza raccogliere monete Adesso io vado su pausa Ovviamente questo l'abbiamo fatto, vedete che c'è la V E dobbiamo fare questo, cerchiamo di raccogliere due gettoni Comunque ragazzi sotto nei commenti scrivete Hashtag MarciGioco E consigliatemi un gioco per Android Da fare appunto per il prossimo episodio di Giochi per Android Non so come chiamarla sta serie, oddio Comunque abbiamo raccogliere, ok, 5 veicoli presi Abbiamo, oddio questo mi piace un casino a me Io faccio sempre così Guardate Mamma mia l'ador Mamma mia sto gioco ragazzi quanti ricordi Vorrei proprio pormi Pormi degli obiettivi per ogni video Intanto ho fatto la stronzata qua Ok Pormi degli obiettivi per ogni video Tipo in questo video volevo cercare di arrivare almeno a 2500 Effettivamente ci sono già quasi Però sicuramente perderò brio Occhio, 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 occhio Infatti sono morto Porca miseria Se io adesso faccio così No, non ci ha dato niente che ci poteva aiutare Perché non ho capito come si fa Abbattiamo il 5-10 scienziati Facciamo un primo Ci sono tipo nello shop Prendendo tanti gettoni Vari potenziamenti Tipo io usavo tantissimo quello che ti faceva fare il salto Ed era una cosa strafiga Comunque qua C'è questo bolide che rompe sempre le palle Ok, siamo riusciti a prenderlo fortunatamente Siamo riusciti a prenderlo fortunatamente Occhio Oddio 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 Saltiamo adesso Io me lo so Oh, guardò E vabbè E qua non potevo farci niente Non potevo farci niente Ok Ok, bravo Marci Bravo Marci Bravo Marci Bravo Marci Bravo Marci Bravo Marci Ne mancano Con questo Sarebbe essere finito L'ultimo Ho il pilo Ecco Ecco questa cosa qua io voglio Questa cosa qua Ci sono 4000 monete Ok 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 4000 monete per Così per saltare in alto Dai che ce la facciamo Non me lo sento Mi piace troppo sto gioco E quindi Io voglio cercare di fare Ce ne mancano quanti da Battere 5 Ah in una partita Vedete qui Ho fatto riprova Ho sbagliato Giuro Giuro non l'ho fatto apposta Lo giuro Credetemi Ok 1 2 3 4 Però l'è morto 4 5 Dai No non lo prendo quello lì 5 6 7 8 Non so se mi ha contato l'ottavo 7 Facciamo 7 8 9 10 Ok infatti non l'avevano contato quello lì Ok ragazzi Siamo riusciti a fare le sfide di oggi Se non quella di 2500 Comunque scrivete nei commenti appunto Il nuovo gioco che dobbiamo fare Cerchiamo adesso di fare il più possibile Come ultima partitina Dai Oh 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 No Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Comunque domani ragazzi Dovrebbe uscire anche un video di Clash of Clans Visto che vi è piaciuto tantissimo il primo episodio E boh Cercheremo di portare avanti anche quel gioco lì Visto che sono giochi che comunque vi piacciono Vi piacciono Prendiamo sto gettone Prendiamo sto gettone No 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 Non siamo riusciti a prendere il potenziamento Il veicolo Eh neanche qua l'ho preso Aiuto Sto poco veloce Eh vaffan cuore Vai affan cuore Vai Mamma mia Oh vi giuro che su telefono è molto più facile Giuro Credetemi Credetemi 758 da partenza Varrà per la prossima volta questo E intanto siamo saliti di nuovo di livello E quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Se il video vi è piaciuto E se volete altri video di Jetpack Scrivetelo sotto nei commenti Altri giochi con Hashtag Marci gioco Da Marci è tutto Bella Grazie a tutti